da partito questo video dove abbiamo Lorenzo Pilati che sarà lepre per i primi 700 metri c'è uno rischio della Polonia che porterà gli atleti fino ai 1200 metri e tutti attifare Yemen Kripp perché possa battere il muro di coltre 351,96 stabilite da geni di Napoli sulla pista di San Donato forza, forza, voglio sentire le mani pulito di San Donato voglio che siano misi 100 metri di applausi 57 passaggi proiezioni 351 siamo come proiezione sul record italiano di San Donato questa è la proiezione al passaggio basta essere equilibrati e poi l'ultimo giro adesso quando va c'è finito dovrebbe avere un'applausione di 1,55 agli 800 per poter essere sicuri di stabilire il nuovo primato italiano 1,54 1,54 1,54 quindi la proiezione è per il nuovo primato italiano 2,54 ora proiezioni 2,54 il passaggio è a 1,000 vediamo in quanto passeranno a 1,000 2,23 2,23 il passaggio è 1,000 siamo ancora sotto forza, forza forza, forza, forza forza, forza spigiamoli, spigiamoli in questo 1,600 metri forza, per amico di San Donato 5,250 4,54 alle e le versus 4,67 al 4,33 . . . . Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti!